Preso a cinghiate dal patrigno, davanti alla madre, vittima un ragazzino di soli 14 anni che spaventato e visibilmente provato è riuscito a fuggire chiedendo aiuto ai carabinieri della compagnia di Seregno. E' accaduto l'altra sera, l'adolescente ha suonato il campanello della caserma, quasi in lacrime, non riusciva a parlare. Ai militari ha mostrato i lividi e le ferite, medicato all'ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato 25 giorni di prognosi. Di messo a casa non ci poteva più tornare, così in attesa di trovare una comunità protetta ha trascorso la notte in caserma. Un piatto di spaghetti cucinato dai carabinieri, un letto di fortuna, la certezza di essere al sicuro. Le indagini hanno consentito di accertare che le 14enne era stato preso a cinghiate per delle risposte sbagliate, in accordo con la madre e davanti ai fratellini più piccoli, e che da tempo analoghi atti di violenza erano compiuti anche dalla donna. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali gravi e insieme alla moglie anche per maltrattamenti contro i familiari. Sempre i carabinieri di Siregno hanno ritrovato seduto su una panchina in buone condizioni di salute un giovane studente brianzolo che l'altra sera in sella alla sua mountain bike era uscito dopo un litigio con i genitori e non aveva fatto ritorno a casa. Ricerche serrate e l'attivazione della procedura salvavita, che prima ha permesso di capire che il telefono del 15enne agganciava le celle telefoniche di zona e poi ha consentito di rintracciarlo presso lo skate park di Siregno. Infine, due dodicenni, vittime di un esibizionista che sabato pomeriggio a Siregno si è calato ai pantaloni davanti a loro, urlando scenità. Le ragazze terrorizzate sono scoppiate a piangere, soccorse da una pattuglia di passaggio, hanno descritto l'uomo sui 25-30 anni di età, con indosso una maglietta bianca, dei pantaloni scuri e un cappellino nero. È stato intercettato poco dopo, nei pressi della stazione ferroviaria, poco prima che potesse prendere il treno per Monza. Accompagnato in caserma al 26enne, un artigiano bangladesi residente a Monza, verosimilmente anche sotto l'effetto dell'alcol, è stato denunciato per atti oscini in luogo pubblico.